Per la politica andiamo a Sassari per la tappa sassarese dell'ex ideologo dei grillini Paolo Becchi, lo ha intervistato Franco Ferrandu, vediamo. L'analisi del voto da parte dell'ex ideologo dei grillini, il filosofo genovese Paolo Becchi, ora critico verso il movimento. Davanti una platea numerosa e curiosa di fuori usciti dai 5 stelle, di esponenti dei partiti di centro-destra, della galassia sovranista o cittadini che non aderiranno più ai partiti tradizionali. L'incontro è stato organizzato dal movimento civico Sassari Libera che si prepara alle amministrative del dopo Nicola Sanna ed era dedicato proprio all'importanza del civismo. Io credo che le spinte devono partire dal basso e quindi quando vedo nascere e sorgere questi movimenti civici o movimenti appunto di cittadini che vogliono ristaurare un buon rapporto, un nuovo rapporto con la politica, io sono sempre dalla loro parte. In Sardegna i 5 stelle sono oltre il 40%, un carico di voti che pesa. Io credo che la bolla ormai del movimento 5 stelle possa scoppiare da un momento all'altro e quindi vuol dire che o Di Maio riesce a capitalizzare il risultato ottenuto oppure entrerà in difficoltà. Sassari Libera sarà una lista civica, non civetta, sottolineano il presidente Luigi Satta e il responsabile politico Luciano Sanna. Tante persone fuori dalle ideologie ci porremo al centro dell'attenzione dei cittadini con delle nostre liste e parteciperemo alla competizione elettorale con un nostro programma e con un nostro candidato sindaco che scaturirà nel percorso che da qui alle elezioni intercorre. Grazie. Grazie.